Ciao ragazze, nello scorso video vi avevo detto che avrei fatto un video totalmente dedicato alle labbra glitter ed eccomi qui, ovviamente con lo stesso maglioncino natalizio e partiamo subito se siete interessate a questo make up occhi per Natale barra Capodanno vi rimando al mio video precedente ve lo metto qui nelle schede, basta schiacciare la i ok, partiamo subito cominciamo allora, utilizzerò tre prodotti una matita, un rossetto e dei glitter i nomi esatti dei prodotti ve li metto sul mio blog trovate il link qui nel box informazioni partiamo subito allora, con la matita coloro un po' anche l'interno ok, a questo punto passo la tinta labbra però nel frattempo preparo i glitter perché non avrò molto tempo e preparo anche il pennello con cui li andrò ad applicare oh wow, sono già caduti tutti vabbè, io intanto li preparo, li apro qui ok, pennello, 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 pennello vabbè, posso applicarli anche con il dito ora vediamo ora applico la tinta labbra subito subito i glitter subito subito i glitter continuo con la tinta labbra e adesso ancora matita mancano un po' di glitter qui e adesso metto pochissima tinta e pochissimi glitter che bello questo effetto è stupendo vado, vado, vado subito yuhuu vi piace? a me piace tantissimo l'effetto è molto veloce e quindi potete optare anche per un occhio semplicissimo con tanto mascara magari un piccolo velo di illuminante nella parte centrale della palpebra e poi questo rossetto stupendo tutti i nomi precisi dei prodotti sono sul mio vlog e io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video spolliciate se vi è piaciuto e condividetelo con le vostre amiche se vi è stato utile al prossimo video buon Natale e buon Capodanno ciao ciao